Il 7 e l'8 luglio torna il forum in versione Lab. Vasco Giannotte insieme a Giorgia Artiano organizzate un bellissimo evento a Napoli, molto attuale con il PNRR e con la sanità che cambia. Sì, sarà un percorso di preparazione del grande evento di Arezzo di novembre. Saremo a Napoli due giorni per affrontare soprattutto i temi del come e chi fa che cosa per costruire le nuove reti cliniche assistenziali nel territorio e per dimostrare come le tecnologie, in particolare la telemedicina, può essere di supporto a queste nuove reti. Dopodiché saremo a Bari per affrontare il grande tema di come spendere bene i fondi del PNRR nella specifica realtà del mezzogiorno come occasione di rilancio della sanità del mezzogiorno e poi saremo per fare la sintesi di tutto questo grande lavoro ad Arezzo nei quattro giorni dal 22 al 25 novembre. Ci saranno anche attori non solo della campagna ovviamente ma anche dell'ASL Toscana Sud-Est. Sì, il mio obiettivo è dimostrare che il forum è ad Arezzo non per caso e non solo perché io sono a Retino ma perché ad Arezzo abbiamo un'ottima sanità che deve avere l'ambizione di parlare al paese. Quindi il forum deve essere uno stimolo a fare di più e meglio all'interno dell'azienda sanitaria sud-este ma anche portare le esperienze dell'azienda sanitaria in Italia. Quindi ci sarà il direttore generale, il direttore sanitario, altre persone importanti di questa azienda che saranno a Napoli a confrontarsi con gli altri per portare le loro esperienze ma anche per imparare a fare ancora di più e meglio. Grazie. Grazie. Grazie.